Allora, questi qua sopra Faccio il tuo portale? Sì, vediamo Vedete? Vedete Scendo, scendo Siamo a far dare caldo e trova Appena viene caldo e c'è razzo, sono messi razzo Anche se la moglie era io e se arriva c'è razzo Grazie signora Grazie, buona giornata Ciao, buona giornata Questo panino che ti metterà, eh? Due bocconcini su signore Due, faccio la panella Buona sono questa panella Ora, prendi, faccio Qua giudicata Cosa reale mozza Fa giudicata Ma anche la 받아 Ho messo il caffè nella tiglia per 10 minuti che si ne va. Potete dover la mangiare ora? Sì, lo faccio la città. Grazie. Un giorno si è in gioco, no? Salute a me qua. Senza altro. Giochiamo a carte. Giochiamo a carte. Buono, buono. L'importante che c'è. La famiglia. La famiglia. Grazie. Beh, no, piccadillo, piccadillo. Piccadillo, così mi fai. Eri, buonissimo. Posso fare una cosa alla volta? Allora, due boccancini abbondanti. Pazienza. Sono pronti. Sono pronti. Sono pronti. Ecco a lei. Guardaci. Come stai da manciare? Non c'è da manciare. Non c'è da manciare. Ma questo video per chi ha? Per te. Mamma. Solo per te. Se tu e tu sono. Grazie. Si va, comincia. Grazie, grazie. Ecco qua. Ecco qua. Se buone panelle vuoi mangiare, sempre da filo deve andare. Non c'è da mangiare. Però la panella era sempre mia moglie. Ma questo lo sappiamo. Eccola qua. C'è l'aiuto di... Lo zampino di tutte. Sì. In due puoi non mettermi il pepe, per favore. Certo, quale vuole? Allora, l'ultimo sorriso d'Urbez. Sino alla volta.